l'amore mio però ragazzi scusatemi io voglio dire una cosa io sarei emozionato ad essere io perché mi sarei divertendo nell'ultima partita ma ok io stavo alle telecamere io stavo alle telecamere è arrivato leo da sopra no 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 tu sei venuto da sopra leo no leo tu sei venuto da sopra leo monom è stato un percazzo l'elettricità sono ritornato su no leo non è vero se è venuto da sopra leo perché poi leo no non lo so io non la tua io io stava le telecamere finite le telecamere è scattato l'alerta io sono andato sotto e che ho incontrato che co non mi ricordo è non mi ricordo è non mi ricordo a forza sì per forza ti ho fatto no no ma che cazzo centro io cioè regali rega io non è che vi dico che ho finito le le tasche di più non fate come vi pare io pure l'ho finita una vostra io manca porco manca porco secondo me loro lo sanno che sono un po se ne vavano ma vado la sotto me la vanno fa vincere me la vanno fa vince ma non se gioca così non se gioca così secondo me ma non va a vincere che però non capisco come fanno uno certo è proprio devo dire la verità un po troppo ma te pare ma te pare che vado a fare quale è stato pure il fatto detto con le case disconnesso lasciano di da solo a sabotare doveva andare se non è che se è stato buttato fuori vuol dire che non deve fare più niente di darti una mano uccidere la sola allora guarda io ti dico io stavo passeggiando tranquillissimo tranquillissimo ho trovato il cadavere alla cosa di benzina perché stavo andando a togliere il sabotage cioè non ho problemi ragazzi ma io vi ripeto voi sembrate scemi fate quello che volete io non so ma perché perché no no sei perché ti spiego io e lei siamo stati tutto il tempo insieme ma non questo round dall'inizio cioè dall'inizio della partita mi dispiace ma non è capito ma non è capito se anche fosse che voi avete giocato così probabilmente avete giocato male è lui che rega allora io vi dico una cosa no io sono stato un'intera serata no no cattivo il mio ha giocato male acquittato e voi due che fate giocate sempre insieme mi sembra due ritardate no rega avete avete ragazzi allora quando fate così poi io sembra che rosico quando a me non me ne frega un cazzo il fatto ragazzi in vergi lo giocare con voi è una rottura di è da inizio partita che sapete che sono io è da inizio partita ragazzi è da inizio partita che sapete che sono io state ridendo da 200 mila ore forse avete visto la live non ne ho idea no no un'altra un'altra cosa un'altra un'altra cosa che vi dico e se tu e leo vi divertite a dire che siete stati sempre insieme e secondo voi va bene come cosa probabilmente non si allora fatemi capire fatemi capire fatemi capire in questo momento voi avete detto intanto votatemi perché chi se ne frega e intanto voi avete detto no perché io e leo siamo sempre stati insieme d'accordo bravi ho seguito le tasche ho visto che ti posso regalo ti posso spiegare ragazzi no non mi interessano non mi interessano ragazzi voglio andarmene via ridendo non me ne frega un cazzo non voglio stare qua che poi la gente può pensare male non me ne frega niente ragazzi non ne voglio non ne voglio non ne voglio parlare perché vedi adesso non c'è te mi stanno dando le rosicone quando io sono di per certo sicuro che voi già sapevate che ero io e ha niente sì sono d'accordo ragazzi grazie discorde grazie mille buonanotte credo che leo ha feccato tutta la partita no no ma lo sapevano sfida di la vita devo sapere quando mi ha impazzato io sono luffi tu hai preso la botola il bianco guido il tuo pubblico è rimasto lì è uscito leo non l'ha incolpato no no ma ti dico l'anno no no allora io e sole l'abbiamo capito al secondo round le luci spende facciano mio dio e solo l'abbiamo capito al secondo round che la stavate feccando io e sole io ho detto io ho detto io io in live ho detto questa partita la stanno feccando anzi se per favore se per favore che co e leo uscite per fuori vi faccio un'altra partita grazie ma mirko ma veramente sì 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 non ti preoccupare va bene non mi interessa uscita amore e puoi uscire grazie amore ciao 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 posso restare io sì sì poi restate tutti preoccupate già andeva no perché rega capite dalle otte io so quello che stava dalle otto e trenta che io non sono impostore da quando sono stato impostore hanno cambiato il metodo di giocare risate a più non posso è l'ultimo round è mai e lui siamo sempre stati insieme perfetto no che voglio sentire non ho bisogno di sentire nessuno però mi dispiace l'avete feccata mi prendo e dimmi ma è nuova cioè non mi frega un cazzo o eri tu o era qualcuno vai 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 a me frega un cazzo cioè era talmente tanto palese era era talmente talmente tanto palese poi o non lo capiscono che poi la chat me lo fa apposta e diventa tossica contro di me c'è una cosa incredibile feccare così le partite a uno streamer non è giusto non è giusto non è giusto e se n'è accorto anche un abbonato che l'avete feccata se n'è accorto solo e meno soccorto io a me non me ne frega un cazzo di te vedi adesso sto rosicando adesso non mi interessa io non ti voglio sentire non voglio io no e beh è la trollata quando io sono impostore non l'ha trollata una io non ti voglio forse non ci siamo capiti io non ti voglio sentire io non ti voglio sentire non mi interessa tanto mi avete fatto passare per quello che deve rosicare quando tutti si sono accorti che sapevate che ero io l'impostore siete anche contenti che avete giocato tutti quanti insieme normale ma io al sole gliel'avevo detto loro se pensano che mi vanno fare registra la partita infatti leo ha detto rega ma io non so un coglione leo che cosa ha detto guarda se vuoi che la partita è da canale di voto che co bomba si vede che già sapevano tutto e dai no che con non me guarda che cosa potete fare non è capito potete fare quello che volete tu non lo sapevi qualcun l'altro lobby lo sapeva va stop finish chiusa discussione potete fare quello che cazzo che vi pare antonio grazie mille per l'abbonamento discutere con voi vi voglio far capire io ma secondo voi è logico che due persone in endgame siamo rimasti in tre si manchino e ridano l'uno all'altro che sono state sempre accoppiate ma scusami secondo te perché io tu che eri la sospettata di tutti finta perché gli altri sapevano che ero io perché ti ho ucciso perché tanto io non potevo fare io non potevo fare nient'altro e che tanto che quelle stavano ride eravamo tutte e due leo che fa mi fa la battuta se poi ti faccio fare la ma detto se vuoi ti faccio fare la partita da canale tipo dove c'è tu me stai più a per culo non hai capito tu me stai più a per culo perché allora uno i video miei su youtube non ce n'è uno falso e se tu mi falsifici i video io ti sputo in testa prima di tutto prima di tutto prima di tutto cioè a me mero per culo perché sono stati tutta la partita a ridere amore io se tu ti riguardi da se tu ti riguardi la partita io ero imbarazzato e a un certo punto console io solo io ho detto solo questi ne stanno a far vincere la partita e se le fasi me ne so accorto pure io è arrivato un abbonato me fa guarda mi se vedeva che tao stavano a fa e allora dai inserbiamo per culo no tranquillo un cazzo amore perché poi veramente come sempre poi sembra che sto sempre io capito cioè perché io inizialmente no ma non me ne frega un cazzo amore ho fatto così io ci tengo alle cose a me chi mi vuole seguire me segue se no non mi seguono e io non so un tipo vinto a me frega un cazzo se a me poi mero del culo mero del culo perché inizialmente a me non me ne frega un cazzo infatti ho detto se rega votatemi poi parliamo ma se poi me dovete prendere per culo tre volte la chat si accorge che io sto rimanendo offeso e i tossici mi vengono contro a me me da fastidio però non è giusto tutto qua non è giusto perché io non mi sono mai azzardato a guardare la live di nessuno non mi sono mai azzardato a dare problemi mai e le persone che lavorano con me perché questo lavoro non si devono azzardare di farlo